Risultati importanti sul fronte della partecipazione dei comuni nella lotta all'evasione fiscale. Ad oggi sono 44 i municipi che hanno deciso di collaborare concretamente con l'amministrazione finanziaria nella segnalazione di informazioni utili a qualificare comportamenti elusivi ed evasivi. Di questi 27 hanno aderito al protocollo firmato con l'Anci lo scorso 5 luglio. Ad essi si aggiungono i 17 comuni che hanno sottoscritto un proprio protocollo d'intesa direttamente con la direzione regionale dell'Abruzzo. Questi numeri parlano chiaro, affermato il direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'Abruzzo, Rossella Rotondo, sono la dimostrazione della forte motivazione dei comuni a collaborare nella lotta all'evasione mettendo a disposizione competenze, professionalità e soprattutto la conoscenza capillare del proprio territorio. Risultati come questi testimoniano la forte convinzione da parte di entrambe le istituzioni che per ottenere risultati positivi per la comunità è fondamentale una collaborazione fatta di proposte concrete e fattibili. Con lo stesso obiettivo si è insediato oggi presso la sede della direzione abruzzese il Comitato regionale per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, dando attuazione a quanto previsto dal protocollo Entrate-Anci dello scorso 5 luglio. Al tavolo di lavoro, cui ha affidato il compito di dare un forte e concreto impulso al federalismo fiscale, hanno preso parte. Per l'Agenzia delle Entrate il capo ufficio consulenza fiscale, Franco Susi, e il capo ufficio accertamento e riscossione, Giovanni Senneca, e per l'Anci il direttore Giuseppe Mangolini ed il direttore Stefano Tinari. Tra i compiti del Comitato l'elaborazione delle linee guida per la segnalazione da parte dei comuni delle informazioni qualificate, l'organizzazione di seminari, conferenze e non per ultimo la formazione del personale municipale, che dai accordi raggiunti, sarà avviata già dal prossimo mese di gennaio.